Un episodio molto spiacevole ha recentemente attirato l'attenzione della comunità di Vallo della Lucania e dei paesi limitrofi, dove un cagnolino di razza maremmano è stato trovato privo di vita in zona San Crescenzio. Inizialmente si è ipotizzato che la causa della morte fosse un avvelenamento, suscitando grande preoccupazione tra i cittadini. La circostanza ha portato l'intervento dei militari del reparto territoriale dei carabinieri forestali del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nucleo cinofilo, per chiarire le circostanze della tragedia. Sul posto l'indagine del nucleo cinofilo ha escluso la pista dell'avvelenamento. Il cane è morto a seguito di un impatto probabilmente dovuto a un incidente. Ieri ho avuto notizia sui social di questo presunto avvelenamento, sento io il conduttore del nucleo cinofilo antiveleno e siamo intervenuti sul posto con il cane antiveleno Danco per bonificare l'aria. Il cane Danco ha segnalato la presenza della carcassa di questo cucciolo in un portico e abbiamo bonificato l'aria senza trovare veleno. Poi successivamente da una visione della carcassa ho notato che il cane presentava una ferita lacero contusso sulla parte sinistra della testa con perdita di sangue e la rottura anche di alcuni denti. Quindi si esclude secondo me. Non mostrava i segni classici dell'avvelenamento, cioè la mascella completamente serrata, le unchie di tratte fuori dovute allo spasmo provocato dal veleno. Ma mostrava soltanto questi segni, quindi una botta presa verosimilmente vicino a una macchina, come è successo anche all'altro cucciolo che era stato investito lì in zona. Quindi non trattasi di veleno e quindi vorrei tranquillizzare la gente che ha continuato a contattarmi per sapere quello che stava succedendo. Non c'è questo fenomeno di avvelenamento così ambio come vogliono far credere, per fortuna. Noi operiamo qui nel Cilento dal fine 2016 con due cani antiveleno, Danco e Gala. E non operiamo solo nel Parco Nazionale, ma operiamo anche al di fuori del parco, in tutta la Campania e anche la Calabria, perché la Calabria è rimasta scoperta dai nuclei cinofili e quindi opero io in Calabria. Il nostro compito è quello di fare delle ispezioni preventive per evitare che ci siano degli avvelenamenti. E in caso di avvelenamenti facciamo le urgenti, cioè la bonifica dell'aria dove è avvenuto l'avvelenamento. Molte volte troviamo dei bocconi ancora che sono a terra, molte volte troviamo solo le carcasse degli animali morti, perché la gente utilizza questo metodo barbaro ancora per avvelenare il cane o il gatto del vicino, oppure per avvelenare il lupo o un altro animale che stanno, che gli possono creare dei problemi. Non sapendo che l'utilizzo del veleno è un danno per tutto l'ambiente. Punto uno, il veleno non è selettivo, quindi mettere un boccone per avvelenare un gatto non è solo il gatto che ci va a mangiare, ma ci va a mangiare il cane, ci va a mangiare il lupo, la volpe, il cinghiale, i rapaci e ce lo troviamo anche noi poi, perché entra nel ciclo dell'alimentazione e ce lo troviamo anche noi a trovarlo. Se il cinghiale mangia una carcassa morta per avvelenamento, la carne di cinghiale noi la mangiamo, quindi ci troveremo anche noi delle parti di veleno nel cibo che andiamo a mangiare. Quindi io proprio domani parto per la Sicilia al G7 dell'agricoltura per sensibilizzare la gente sull'utilizzo del veleno e per evitare che tutto ciò avvenga.